Se l'ho dato Gesù Cristo, un saluto carissimo a voi che ascoltate. Gesù dice chiaramente che bisogna mangiare la sua carne e bere il suo sangue per avere la vita eterna, per entrare nel regno, per avere la risurrezione, per diventare come Lui. Quindi, quando parla è talmente forte che questa affermazione ripetuta causa il distacco di un gruppo notevole di discepoli. Incomprensione, giudizio e, tutto sommato, anche noi potremmo cadere nello stesso tipo di reazione. Infatti, noi siamo abituati ad assumere l'ostia eucaristica. Quell'acqua e farina, quel pane così sottile, un po' ci ricorda la manna, qualcosa che viene assorbito dal corpo velocemente, in bocca si scioglie. Perché non abbiamo certo il sentore della carne né del sangue. Ma questo, da una parte, se facilita, per mezzo, si chiama, della sacra mentalità, l'assunzione del corpo e sangue di Cristo, ci può anche far credere che questa eucaristia sia solo simbolica senza nessun contenuto sostanziale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo non credere che quello sia vero corpo e vero sangue di Cristo, ma un simbolo di comunione ideale, di fraternità fra noi, fraternità col Cristo. Un gesto simbolico, come quando si condivide qualche cosa, anche un pasto. Si invita a casa un ospite e in casa vuol dire nell'intimità della famiglia, delle relazioni, degli affetti. Questo vuol dire condividere un'intera vita. Senza dubbio il mangiare insieme è importantissimo. E Gesù compie questo dono eucaristico proprio alla fine di un pasto, che non è un pasto comune, ma è il pasto del racconto dei fatti della Pasqua ebraica. Un pasto solenne, già di per sé rituale, perché ricorda su ordine del Signore quello che gli antenati fecero e che loro devono ripetere. Il memoriale che rafforza la volontà di obbedienza e di fede nella parola di Dio data attraverso Mosè. Ma, dicevo, l'eucaristia è un fatto sostanziale. È vero corpo, vero sangue di Cristo. Gesù ci tiene a ribadire questo. C'è dunque un cambiamento di sostanza, anche se la forma rimane la stessa, quella che noi chiamiamo gli accidenti, cioè l'aspetto, il sapore, tutto quanto rimane come il pane e il vino, ma la sostanza è divina. Ma per quale motivo, dunque, noi dovremmo assumere il corpo e il sangue di Cristo sotto forma sacramentale? Perché questo sacrificio di Cristo viene anche offerto come pasto con Dio? È importante sapere che negli antichi sacrifici previsti da Dio e dati a Mosè, che poi vengono espressi nei libri del Pentateuco, soprattutto in Levitico, abbiamo una serie di sacrifici che vengono compendiati dall'azione di Cristo. Abbiamo l'Olocausto, che è l'offerta totale della vittima, e abbiamo il pasto di comunione, il sacrificio di comunione, dove parte della vittima veniva consumata in comunione con Dio, perché è la vittima sacra offerta sugli altari. Questo apparteneva anche alle religioni pagane. Sappiamo che San Paolo parla e spiega la questione degli idolotiti, cioè di quelle carni che si compravano al mercato, ma che prima erano passate sugli altari pagani. E allora molti non volevano assumere di queste carni, perché erano in comunione con i demoni. San Paolo dice che sono offerte false e appartengono a un mondo falso, quindi non c'è nulla dietro. Ma per i deboli bisogna rispettare e non scandalizzare nessuno. Ma per quanto riguarda il pasto di Cristo, il pasto eucaristico, in realtà si unisce concretamente all'offerta che Cristo fa di se stesso. Non a caso, egli offre se stesso sulla croce, prima viene anticipato il dono dell'Eucaristia. E dice, fate questo in memoria di me, continuate anche dopo la mia morte sulla croce, ed offre il corpo che ancora non è risorto, ma che deve patire, è all'interno del sacrificio stesso della vita di Cristo, che è tutta sacerdotale, dal momento del suo concepimento, seno di Maria, fino alla sua morte in croce. L'assumere dunque il corpo di Cristo in forma sacrificale, come sacrificio di comunione, vuol dire io sono in comunione col Cristo, sono un tutt'uno col Cristo, sono parte di Lui, sono parte della Sua volontà, che si offre in modo totale e completo sulla croce al Padre per espiare i nostri peccati. Due tipi di sacrifici dunque vengono uniti. Uno è quello di espiazione e di sacrificio offerta totale, l'altro è quella della comunione. Abbiamo dunque significati che vengono unificati da Cristo con l'azione concreta e reale della Sua incarnazione, egli è il Cristo, cioè il Figlio di Dio fatto uomo, del Suo sacrificio sulla croce in espiazione dei peccati dell'umanità, quindi egli assume tutta l'umanità, e per dirci che noi siamo nel Suo sacrificio nella Sua morte in croce e dunque anche nella Sua resurrezione, dice voi siete parte di me. E il sacrificio di comunione, l'assumere la carne e il sangue, in modo sacramentale, ci unisce spiritualmente in un modo fortissimo e invincibile con il corpo di Cristo. Una definizione infatti antichissima di Chiesa, e San Paolo usa questa espressione, è Chiesa, corpo, mistico di Cristo. Dunque anche popolo di Dio, noi dunque siamo il Christus totus, come dice Sant'Agostino, dottore della Chiesa, come sappiamo, il Cristo totale è riassunto in noi e tutte le parti chiamate devono aderire, fino all'ultimo uomo chiamato a questo. Nell'Eucaristia dunque noi assumiamo il vero corpo di Cristo perché egli trasforma noi nel suo corpo. Egli porta noi sulla croce e dunque paga per noi il peccato. Le colpe che Cristo porta sulla croce e paga con la sofferenza sono le nostre colpe. E poi Lui attraverso la morte ci porta e ci trasforma nel suo corpo di risorto, corpo glorioso, perché se con Lui moriamo anche con Lui noi risorgeremo. Come dice San Paolo e come dice la dottrina tutta della Chiesa. Dunque la comunione è necessaria per essere in Cristo nell'operazione perfetta di corpo, anima, volontà nella santità che si offre al Padre e nell'assunzione nostra di quello che noi siamo purtroppo per farci diversi da quello che siamo. da miseri, peccatori, esseri destinati alla morte eterna ci fa partecipi, parte del suo corpo che invece diventa glorioso per regnare con Lui nel suo regno. Questa è l'Eucarestia. Questo è il pane del pellegrino sulla terra, questo è il pane dei forti, e il pane di coloro che vengono sostenuti in questo cammino di volontà di purificazione seguendo il Cristo sulla croce perché la nostra croce diventa il mezzo con Lui per salire in cielo perché c'è questa unione sostanziale della nostra natura umana con la Sua, della nostra volontà imperfetta con la Sua, del nostro peccato con la Sua santità e il Suo essere, la Sua santità, la Sua luce poiché noi vogliamo stare uniti con Lui disintegra le tenebre, il male, il peccato e la morte che sono in noi. Dio vi benedica. Grazie. Grazie.